Noi siamo all'alternativa alla paura della Lega e di tutti i movimenti paraleghisti di destra, siamo all'alternativa all'austerity proposta da Moretti e da Renzi, un'austerity da destra liberista, quindi noi rappresentiamo l'unica sinistra. Se qualcuno ha scelto la destra liberista ha fatto un errore, un errore molto grave per chiamarsi sinistra. Ci convince che tutti si basano sulla paura di qualcosa, la paura del politico per il Movimento 5 Stelle, la paura dell'altro, delle destre xenofobe e razziste della Lega, la paura dell'Europa, o meglio della Troica, del PD. Le nostre proposte sono un ritorno allo Stato per i servizi, quindi un ritorno alla sanità pubblica, un ritorno ai trasporti pubblici, ai trasporti pubblici centralizzati ed efficienti, un ritorno anche al non consumare territorio, ma a sfruttare territorio non con il cemento ma con altri mezzi, altre possibilità. Non è vero che privatizzare è meglio, privatizzare mette solo il nostro bisogno primario nelle mani del profitto e il profitto non cura, il profitto non genera salute, il profitto pensa solo al profitto.